...conciliazione, ma è una ratifica effimera, ma di espressione del Somali Congress, il gruppo armato che ha combattuto a Mogadiscio e che controlla oggi la capitale. Le altre due fazioni, il National Moment ed il Patriot Moment, hanno già fatto sapere che vogliono ridiscutere tutto, Presidente, Governo, Programmi, tre clan, tre tribù diverse che per molti anni hanno trovato un momento d'intesa nella lotta contro Siad Barre. Adesso che il tiranno è caduto, che cosa accadrà?